L'appuntamento con la lavagna tattica di mister Carlo Pogliani, ciao mister! Ciao Andrea e buona giornata a tutti i nostri abbonati. Sì sì, tutto bene. Molto bene, molto bene. Non parliamo di europeo, l'Italia ha già giocato la partita con la Turchia, ma ovviamente parliamo del nostro pari quotidiano che è il Milan. Tante curiosità, abbiamo un po' troncato sul nascere il discorso De Paul, ti chiedo subito che cosa significherebbe l'importanza di un giocatore come De Paul o De Paul, che si voglia, nel Milan, chiaramente al posto di Ciannavolo. Partiamo da qui Carlo. Allora, intanto dobbiamo subito precisare, siccome mi sono stati fatti degli appunti sul fatto che dico soltanto le cose che tendono, che evidenziano il giusto, che faccio presente quando vengo qua da voi su De Paul, l'altra volta abbiamo sbagliato perché effettivamente la procura di Raiola era per l'estero e non per l'Italia, quindi a questo punto sarebbe acquisibile. Dico che sarebbe importante perché nello schema del 4-2-3-1 la funzione del trequartista che fa da tramite fra la manovra offensiva e quella di centrocampo è fondamentale. Oltretutto è fondamentale avere un giocatore che gravi poco sulla fase di non possesso e in Italia non ce ne sono tantissimi, ecco perché ero andato anche su Pessina, anche lì era stato fatto un errore, nel senso che avevo parlato di un giocatore che faceva parecchi gol, poi invece sono andato a vedere e in effetti con l'Atalanta non aveva fatto tantissimi gol, anche se dà sempre l'impressione di essere nella zona nevralgica dell'area di rigore dove poter essere influente. Il fatto che questo Milan adotti spesso e volentieri il 4-2-3-1 arrivando al punto di metterci anche Leao in una partita se non sbaglio, dove forse ha fatto una delle sue migliori partite, significa che il giocatore è fondamentale. Ora, bisognerà vedere quello che succede con Cialanoglu, perché a questo punto il Milan ha bisogno minimo di 2-3 quartisti perché non si deve ritrovare nella condizione di mettere un adattato. Io sono sempre convinto che se Brian Diaz ha espresso la volontà di rimanere al Milan e al Madrid ci facesse questo piacere con un ulteriore prestito, abbiamo il giocatore che in Champions League può veramente fare la differenza, perché a differenza dal campionato italiano in Champions si gioca un calcio molto più aperto, molto più rispettoso nei confronti degli avversari, vediamo meno falli, meno entrate cattive, meno trattenute per la maglia e noi dobbiamo considerare che Brian Diaz, pur non essendo un giocatore particolarmente attrezzato dal punto di vista fisico, ha una tecnica di base straordinaria, perché quando un giocatore tu non riesci a capire se è destro o mancino, significa che calcia con entrambi i piedi con una padronanza assoluta. Quindi De Paul, De Paul sarebbe un giocatore chiaramente fondamentale sempre che in avanti ci sia qualcuno all'altezza per poi poter sfruttare un ruolo che lui sa ricoprire, che non ha ricoperto sempre nella vita e che dovrà dimostrare di poterlo fare in un club più importante dell'Udinese. Comunque se dovesse arrivare benvenga, oltretutto c'è da considerare che io ho fatto un mio calcolo su quello che possono essere eventuali alternative al 4-2-3-1, considerando i giocatori che abbiamo in rosa adesso e qualcuno che potrebbe ritornare come Dalot o appunto come ho detto Brian Diaz, Milan deve trovare un'alternativa e secondo me l'alternativa al fatto di non dover giocare obbligatoriamente col trequartista sarebbe quella di alzare Teo. Alzare Teo in un ipotetico 4-4-2 semiscolastico o addirittura scolastico perché con il mancino a sinistra e il destro a destra tu fai un 4-4-2 scolastico. È chiaro che sia nel 4-2-3-1 che nel 4-4-2 noi rispettiamo quelli che sono i due giocatori che si sono avvalsi maggiormente del centrocampo con due soli giocatori che sono Benasser e che sì, nella speranza che Tonali possa apprendere un ruolo che gli è rimasto un po' indigesto in questa stagione, però è giovane, è un 2000 e quindi c'è da aspettarsi che possa migliorare. Torna all'ovile anche Pobega che è un giocatore che io ho seguito degli europei ma soprattutto nella partita in cui siamo stati eliminati dal Portogallo dove ha fatto benissimo da lot e non tantissimo bene le out e Pobega ha fatto molto bene e quindi ecco magari con 4-4-2 avvicinando alla prima punta Rejvic che anche in Germania in quel ruolo ha fatto benissimo se non sbaglio, correggimi Andrea, vicino a Jovic, noi potremmo avere un'alternativa ogni tanto far riposare il trequartista non averne obbligatoriamente due anche se ripeto io il pensiero di un Brian Diaz con qualche muscolo in più non esageratamente se no poi rischia di perdere quello che è il fatto di essere una libellula io e il nostro è il nostro Guido Guinizelli del Dolce Stil Novo lui deve deve predicare il verbo in teatri importanti non in teatri di periferia e voi vedrete che se dovesse tornare Brian Diaz in teatri importanti come può essere l'Old Trafford come può essere il Camp Nou farà bene perché è un giocatore, di un talento unico come non se ne vedono tanti in questo periodo ecco quindi io non è che sono qui a dare consigli per l'amore di Dio molti mi hanno tacciato io qua faccio l'opinionista l'opinionista perché se io dovessi fare criticare gli allenatori fossi un allenatore di quel livello non lo farei sicuramente io sono un allenatore di settore giovanile qualcuno mi ha rimproverato anche questo io sono orgogliosissimo di essere stato un allenatore di settore giovanile e di aver operato penso bene in quel settore adesso alleno le ragazze questo non mi impedisce di dire la mia come opinionista quindi Pioli è lì per quello ha fatto questa svolta imbeccato dai dai Brahimic sul 4231 mi auguro che possa quest'anno visto che c'è anche il tempo a disposizione diciamo nel periodo estivo programmare un altro sistema di gioco per valorizzare le qualità di quei giocatori che magari anche in un 4-4-2 scolastico potrebbero dare ancora di più di quello che hanno dato nel 4231 mi riferisco appunto a Rebic mi riferisco a Teo Hernandez se dovesse tornare da lotta abbiamo un giocatore che gioca a destra a sinistra e che fa una discretissima copertura io su Leao prima di mandarlo via un tentativo un tentativo perché non è semplice mettergli nella testa giocare quarto di destra in un 4-4-2 però uno che ha una falcata così e che ha rispetto ad altri giocatori la possibilità di saltare l'uomo soltanto allungando la palla come fanno gli Spinazzola come fa Teo Hernandez come fa Hakimi chiaro che quando poi tu allunghi la palla difficilmente penetri nel campo vai sull'esterno ma considerando che di gol non ne fa tantissimi se potesse essere lui quello che mette negli altri la condizione di fare gol io ne sarei contento in tutto questo è citato Dalot quanto sarebbe importante far tornare a casa nostra Dalot ma Dalot è un giocatore che in varie zone del campo si è sempre comportato bene magari non benissimo consideriamo che appunto l'abbiamo visto nell'europeo nel europeo andar 21 fisicità devastante molto forte anche tecnicamente non disdegna dei colpi tipo quello faccio l'esempio il gol che fa a Verona non è un gol che fanno tutti entrando nel campo saltando all'uomo e mettendo la palla all'incrocio dei pali sono cose che indirizzano il giudizio di un giocatore un giocatore bravo quelle cose le fa a me farebbe piacere perché come ho detto l'altra volta dove lo metti gioca poi mi hanno detto ma dove lo metti gioca dovrebbe giocare bene ecco magari non ha giocato sempre benissimo però non ha mai dato l'impressione di trovarsi proprio a mal partito a destra a sinistra addirittura a Bergamo all'ultima giornata in un momento cruciale della partita perché il Milan in quel momento non era ancora sicuro al 100% di arrivare in Champions League ragazzi è arrivato sul fondo ha messo una palla con i giri contati a Ciananoglu e da lì è nato il rigore del 2 a 0 quindi secondo me è molto importante è un giocatore che a me piace ripeto poi bisogna vedere anche i margini di miglioramento che ha un ragazzo perché noi abbiamo tanti giovani che a fianco di qualcuno di più esperto possono ulteriormente migliorare e poi il fatto di di poter giocare a destra a sinistra a basso è impagabile perché non tutti sono in grado di farlo C'è il problema attaccante? Beh il problema attaccante esiste perché mi avete detto che Ibra fa fatica a recuperare addirittura forse dicono si dovrà operare io mi auguro proprio di no è chiaro che a questo punto io ero d'accordo anche solo sul fatto di far arrivare Giroud perché se tu hai Ibra e Giroud bene o male un campionato riesci una quarantina di partite a portare a termine con questi due giocatori che oltretutto sono due giocatori forti a questo punto per quello che quando prima ti parlavo di De Paul io fossi un dirigente la priorità è il numero 9 il numero 9 è chiaro che purtroppo uno ormai è fuori mercato secondo me è il più forte Vlaovic ma c'è niente da fare rimarrà alla Fiorentina anche perché penso che Gattuso difficilmente se ne priverà a meno che non arriva un'offerta stratosferica ma secondo me già 50-60 milioni sono un po' esagerati per un ragazzo che ha fatto mezzo campionato buono dove ha dato la dimostrazione di essere devastante però aspettiamo un attimino quindi un altro giocatore che a me non dispiace è Scamacca che anche lì l'ho seguito nella nazionale under è uno che accentua su di sé il gioco perché ha una grande fisicità io sono convinto che crescendo a fianco di Ibra e di Giroud questo ragazzi impara tante cose in allenamento perché poi noi dimentichiamo sempre che quando si dice è però questo ragazzo non gioca però c'è tutta la settimana in cui un ragazzo sta a contatto con dei giocatori a cui può rubare il gesto tecnico, la forbizia, il fatto di come stare in campo di dove può cadere un pallone in area di rigore quindi io ripeto la mia priorità io non ho mai visto squadre fortissime a parte il Barcellona del falso 9 dove si rinuncia alla prima punta e per me la prima punta è la cosa più importante l'ha dimostrato il Milan negli anni quando ho avuto gli Inzaghi il Shevchenko che pur partendo di filato era un falso centroavanti Van Basten, Altafini, Pierino Prati insomma le squadre importanti se vogliamo tornare a una squadra importante non si può fare a meno della prima punta è chiaro poi uno mi dice ma tu sei sicuro che Scamacca è così forte io sono sicuro che Giroud è forte e un paio d'anni te li fa ancora su Scamacca bisogna rischiare perché se mai rischi ragazzi e andare a prendere quelli finiti sono capaci tutti e invece il Milan non ha questa possibilità una volta il Milan si poteva permettere di prendere Pappen, pallone d'oro e metterlo in panchina dietro a Van Basten adesso queste cose non si possono fare più e quindi bisogna cercare un po' di fare di necessità virtù Carlo ci dimentichiamo qualcosa? Volevi fare un'aggiunta se non sbaglio su Romagnoli? Ma Romagnoli è un giocatore di cui io sinceramente non mi proiberei perché ci sono tante manifestazioni però ci sono tanti se e tanti ma nel senso che è chiaro che se lui vuole rinnovare alle cifre che vuole il suo procuratore non se ne parla neanche perché purtroppo l'ultima annata non è andata benissimo bisogna ricordare che è stato uno dei pochi a firmare nel momento in cui il Milan era veramente non in condizioni ottimali e se lui accettasse un turnover penso misurato dal mister potrebbe anche rimanere perché poi anche andarlo a sostituire al Milan torna a Caldara che ha fatto delle stagioni non straordinarie a Gabbia che è un centrale un attimino lento secondo me per giocare in quella posizione e quindi bisognerebbe comunque andarne ad acquisire un altro è chiaro che se dovesse arrivare un cambio e una plusvalenza facciamo meno anche di Romagnoli che ripeto quest'anno non ha fatto bene anzi tutt'altro il Milan ha un po' svoltato quando è entrato Tomori che ha dato veramente sicurezza a parte un paio di partite ma ci può stare iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ringraziamo la lavagna tattica di mister Carlo Pogliani se è un piacere ma figurati ci mancherebbe ecco l'unica cosa che quando poi fate dei commenti a cui io non posso rispondere a me dispiace leggere certe cose personali non andate sul personale perché ripeto poi io di tutto quello che ho fatto nella mia vita a livello calcistico ne vado orgoglioso e sono qua come opinionista poi non posso piacere a tutti ci mancherebbe altro se no non sarebbe neanche neanche bello però per esempio il verbo il verbo girare su se stesso che in milanese è pirlare non è che faccia tanto piacere mi raccomando giusta osservazione grazie Carlo grazie a voi e buon proseguimento di weekend iscrivetevi lasciate tanti like ciao a tutti forza Milano